Per adesso noi abbiamo votato e letto il DEF che ovviamente è come un indice di ciò che intende fare il governo. In legge di stabilità Renzi assicura la copertura e soprattutto noi esprimiamo soddisfazione come nuovo centrodestra perché ciò che avevamo chiesto è rientrato nella legge di stabilità o almeno negli impegni che il Presidente del Consiglio ha assunto e cioè meno tasse per le famiglie, meno tasse per le imprese e anche ammortizzatori sociali in più per chi oggi perde il posto di lavoro. Crediamo che Matteo Renzi prendendo un impegno con l'Italia e anche con l'Europa non potrà certo non fare in modo che ci siano le coperture per cui siamo fiduciose della ragione per la quale sosteniamo questo governo.